Ciao, qui c'è la mia ricerca del Hoshi Arashi, che è un plastico shakuachi che viene da Cina. Viene con una piattaforma molto bella e anche con una piattaforma di schakuachi in cina, ma ancora è molto bella che è inclusa. Inoltre voglio parlare un po' di questa fluta e perché la ho comprato. Faccio Ginashe Shakuachi come questa. Ginashe Shakuachi sono molto difficili da fare e per ottenere una buona fluta prende rischi e errori. Giaari invece è un canale artificiale, un canale artificiale. Nella mia opinione, un canale artificiale può essere replicato con un strumento plastico. perché già andate in una direzione di cose artificiali. Andate in una direzione in cui non importa il sonno del bambù in modo che dovrebbe essere, come un sonno originale. Ho provato anche un Ginashe Shakuachi fatto di plastico e non era buono in opinione. E la ragione è che quando parliamo di buono o di buono è un soggetto. Ok, non c'è bene o buono in fine. Ma ciò che guardo quando faccio il mio Ginashe Shakuachi è che guardo la natura subtile. La natura subtile delle cose. E è su un sentimento. È su un livello di realtà che non è riuscita da nessun modo. Se guardo solo sul musicale, se guardo solo sul suono dell'instrumento. Devi andare più profondamente e devi guardare la realtà subtile, la realtà subtile della realtà che viviamo. Quindi il Ginashe ha questo propósito di aiutare a riuscire a capire, a capire e a sentire le dimensioni di realtà. Ma quando parliamo di un strumento che devi giocare, devi registrare, non puoi trasmettere. Perché questa è un'esperienza interiore. Non puoi trasmettere. Quindi in questo scenario, per me, non c'è una differenza tra un Shakuachi plastico e un Giari. Ma ancora preferisco il bambù come materiale. Io devo essere sincero. Io ancora credo che la risonanza, parlando del bambù, è migliore. È migliore in modo che il bambù come materiale è potuto trasferire. In termini del sonno, è potuto progettare un po' più. Ok? La vibrazione. Ma parlando del plastico Shakuachi, che è disponibile ora nel mercato? Secondo punto, l'Oshi Arashi è, senza dubbio, il migliore instrumento. Ok? La qualità è molto buona. Comparesa con un giari professionale, che costa 3.000-2.500 euro. L'U, per esempio, non era comparabile con un top Shakuachi di Aria. In mio opinion, era più di 1.500 flutti. Perché la resonanza, il raw, e anche in altri aspetti, non era top top level. Ok? Ma questo, l'Oshi Arashi, è top top level. Ok? Il giunto è metallo. L'U era un giunto plastico. Quindi, puoi rompere il giunto dell'U. Con questo, non dovresti preoccupare. E l'unica consapevole di questo flutti è il peso. Il peso è di 500 grammi. E, in mio opinion, è un po' più pesante. Ma non è qualcosa che non puoi perdere. Perché, alla fine, quando guarda il flutti, non senti molto il peso. Perché è abbastanza bilanciato, in modo che è costruito. Ma ancora, 500 grammi è molto. Per esempio, il mio giari, che è fatto da Kanzan, e è top qualità, è 350. Vedete? E è la stessa storia. Quindi, è solo il materiale che hanno chiuso per fare questa flutti. È un po' pesante. E questo materiale è un materiale composto. Un differente plastico. ed è anche carbon fiber. Carbon fiber, ABS. È un composto mixato. Quindi, se non ti preoccupi del plastico. E se vuoi trovare un strumento che possa aiutare a studiare il sciacquaci. Per esempio, ho comprato questo per i miei studenti già. E ho comprato anche per me. Perché mi piace davvero questa flutti, per essere sincero. Perché, ovviamente, preferisco il bambù. Ma quando voglio qualcosa che non ho bisogno di preoccupare, è una buona alternativa. Ok? Quindi, la qualità di sonno di questa fluta è molto facile da spiegare. Ok? È molto semplice e facile. Penso che è sul lato molto facile del sciacquaci. Ginnashi flutti, non puoi comprare perché è un rialmo diverso. Come ho ho spiegato prima. Ma se parliamo di giari flutti, questa fluta ha il più stabile ruolo che ho mai incontrato su un giari. È come... Easy peasy. Ok? Molto semplice. 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 Ok, non ho giocato molto perché ci sono molti video di persone giocando questo, che già puoi sentire il suono perfetto. La qualità. La qualità è consistente. Per il mio capito, ho comprato due di questi e sono praticamente molto, molto, come la stessa. Non ero capito di dire la differenza tra questo e questo. E questo è bene. Perché questi strumenti, alla fine, sono fatti da mano. Le ruote sono fatti da mano. Il fine tuning è fatto da mano. Quindi è bene che sono consistenti. E anche si può sentire sull'altro. Quindi, in mio opinione, è una buona scelta per un inizio. E quando vuoi investire, quando hai l'argento, puoi scegliere. Vuoi andare in la ginashe, e posso provare. O vuoi andare in la ginashe, e posso provare. anche perché sono in contatto. E posso trovare una buona fluta del Japone, da creare, come Kanzan. che sono meravigliamente buona. Ancora puoi sentire che la resonanza della fluta di Kanzan, il bambù, progetto un po' più. E questo, in mia opinione, questo creatore, è quello che rende la fluta di Giyari per il prezzo. Ok? Se stiamo parlando di qualità top top. Ok, grazie per ascoltare. E spero che questa ricerca sia aiutata a voi, e alla vostra giornata di Shikwachi. Ciao, ciao!